basta e tu non rompere il lotto che ogni volta lo fai ed è subito stai aspettando che iniziamo così lo rompe no non lo fai basta dai ma ti sembra ogni volta a giocare a un cuore però ha fatto perché è gentile Anna vedi ha fatto anche il rosso dentro il cuore per amor vedi che nulla mamma mia finalmente ci ho messo solamente 7 video per fare sta cosa si è intrigante è un sedere tra l'altro bene ma per il momento oggi si costruisce la casa di Alex contro quella di Giorgio e noi costruiremo se non avete nulla in contrario quella di Giorgio in modo da poter collocare ma lo sappiamo che Giorgio è il vostro preferito tutti e due non solo bisogna collocare i nomi a punta nomi non nomi l'italiano è una lingua veramente sconosciuta molto bene allora vi auguriamo una buona costruzione e buona fortuna fatela bene sì questa volta magari no perché le scorse volte vorresti dire scusa che le altre volte fanno schifo che le altre volte non ti piacciono non è vero noi siamo bravissime ciao ciao mannaggia più pronto 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 lino prontolissimo allora allora qui c'è poco tempo da perdere feri perché è disastrosa la cosa ti spiego qual è il problema il problema è che noi secondo i piani mi sa che così è troppo grosso però quindi lo faremo un po più piccolo tipo così secondo i piani noi oggi costruiremo un non un tiragraffi perché sto per dire un tiragraffi no una torre tiragraffi perché ora vi faccio vedere allora praticamente noi creeremo questa cosa chisel wool non ce la faccio allora set chisel due punti cian trattino basso wool due punti uno che ho fatto non c'è niente wool è perché ho scritto al contrario ovviamente era prima wool e poi trattino basso cian e così ecco qua ora tu direi cos'è sto schifo effettivamente è un poco schifo allora innanzitutto ho dimenticato la cosa importantissima che è questa questa sarà la nostra come dire il nostro prototipo la nostra fonte di ispirazione ok ti piace molto carino si è grazioso allora cosa faremo ti faccio vedere praticamente noi creeremo una specie di quello ma a tema alex quindi tipo qui ci sarà una sezione tiragraffi molto carina che è alta quanto è alto 1 2 3 4 ok poi ne metteremo un altro qui e sarà tipo 1 2 3 4 vediamo se ho fatto bene sì mamma mia sono bravissima no non è vero sto dicendo un sacco di cose lì cosa dobbiamo fare molto semplicemente sto guardando perché allora questo è un po tipo rientrottile ok ho capito ho capito com'è ho sbagliato perché dobbiamo metterlo un po più qua perché non voglio farlo gigantesco allora cosa stiamo facendo noi stiamo creando il tiragraffi di alex avrò bisogno del tuo aiuto ma prima devo fare la pedana per capire che caspio fare quest'oggi perché non ne sono neanche tanto sicura allora già il fatto che noi abbiamo questa specie di come dire di esempio ci fa molto comodo allora noi faremo da qui no no dove la mettiamo qui qui è ecco qua da qui ecco perfetto faremo così cosa è successo allora allora cominciamo a dire che le cose vanno fatte bene così ecco qua allora questa sarà la seconda pedana noi toglieremo questo schifo feri la prima cosa che bisogna fare se vedi questa qui ha questa rampina di salita ok allora noi distruggiamo questa parte qua e tu farai la scalettina fatta con il legno che è il birch e farei la scalettina che porta al piano di sopra quindi che da qui scende fino a qua giù tipo l'ultimo gradino dovrebbe essere qui per dire bene o male vedi un po come riesci ad arrangiare intanto io faccio la casettina la casettina sarà alta 4 la faremo tipo così più o meno così dai dovrebbe andare un pochino più avanti magari ecco qua così mi piace si facciamo così perfetto e la facciamo allora ti faccio vedere che cosa ho pensato voglio richiamare un po questi colori che abbiamo usato per fare le pedane però senza esagerare troppo quindi faremo tipo i bordi che saranno gialli mentre invece l'interno sarà ciano sarà azzurro quindi sarà fatto tipo set 9 qualche numero a caso così la pedane è fatta ok allora io qui sto facendo un attimo questa cosa qui com'è venuta perfetta oh manca a farla apposta ho misurato giusto come ho fatto sei stata bravissima come ho fatto non so nemmeno come ho fatto eri già partita negativa invece mamma mia faccio spavento allora qui facciamo questa cosa qui praticamente questa sarà la casettina allora vediamo dobbiamo fare il pertugino per la nostra bella casettina e faremo tipo così porca miseria oh ce la facciamo a volare oggi non ce la facciamo così sarà il nostro buchettino allora lo faremo grande perché insomma il nostro gattone è un gattone grosso quindi tombola allora secondo me bene o male potrebbe andare benino qui facciamo un altro pilastrino intanto e tu cosa devi fare allora devi considerare che qui dentro c'è la casetta del nostro gattone esatto quindi il nostro gattone ha bisogno di una bella casettina ok ti occuperai tu di fare l'arredamento devi pensare a tutte le cose che possono servire ad un gatto come Alex ok ok che è molto particolare insomma come gattone perché insomma hai i suoi bisogni le sue esigenze mi sembra anche giusto allora intanto qui io sto cercando di capire ma perché sto volando a destra a sinistra quando me lo posso piazzare un altro perché sono un po stupida allora vediamo un po facciamo questo ma ce n'era anche un altro dietro sì sono una tontolona ok allora dovrebbe essere così perfetto ecco qua allora per chi non l'avesse capito queste cose fatte in legno dovrebbero rappresentare un po tipo i tiragraffi che sono quei bastoncini su cui i gatti si fanno un po le unghiette dicono mamma mia che bello sono carini i gatti sfondo tutto allora io adoro molto i gatti il punto è che da quando ho il cane diciamo che il mio universo sia un po come dire ridimensionato ad un'altra razza tutto qui ok quindi non lo so se è una cosa normale forse sì forse no non lo so le metto azzurre le lascio a tema che dici secondo me sì secondo me potrebbe essere molto carino lasciarle a tema allora io qui adesso voglio fare un'altra cosina lo so che in realtà non so se quello che sto facendo è molto come dire consono e spiego subito qual è il punto che io praticamente ho preso ispirazione un pochino da un oggetto che è già costruito spero che non crei problemi questa cosa però non lo so mi piaceva molto l'idea mi piace era veramente grazioso e quindi ho detto ma dai voglio farlo un po simile che si ispira carino caruccio no cioè ok non fa niente vero non è una cosa orribile da fare vero ecco qua allora guarda se tu vieni a vedere cioè come si fa sì mamma mia guarda allora io ho messo ho messo anche la pallina rossa con quel gatto aspetta la faccio un po più in alto però perché sennò il gattone si diverte di me ecco qua allora secondo me è carino secondo me è carino però ho pensato il piano di sotto ok allora feri tu mi organizzi bene mi metti un bel lettino da cioè dei mobili oddio l'orologio da gatto che è carino mi metti un lettino bellino cioè allora comunque considera che è un gatto come alex quindi ci vuole una cucina effettivamente cioè funzionante perché sai se metto questo letto fai vedere aspetta ma sì allora guarda io ne ho un altro che è bellissimo perché è un po più come dire che richiama un po più i colori che ci sono qua in giro e dovrebbe essere tipo prova questo prova a vedere questo è molto più come dire un po più fashion un po più è molto più bello poi devi ricordarti che il nostro gattone in particolare è molto fissato con con i vestiti queste cose un po modaiole infatti quindi ci vuole qualcosa che insomma ci si addice un po allora io sto vedendo un attimo ma incastate i problemi perché ci sono alcune cose che vengono chiamate grey con la e e altre scritte grecola a quindi adesso il mio cervello si sta chiedendo qual è la versione giusta di questa parola se grecola e o grecola a però va bene noi non ci importa cosa sto facendo io intanto che feri arreda la stanzetta sto creando il giocattolino preferito di alex che secondo feri qual è vediamo un po se indovini cosa sto facendo è un topolino ma bravissimo allora io non so neanche non è un topolino è un mostro aspetta aspetta e si costruisce un topo ma hai messo curiosità dove sei sono di sotto aspetta faccio ecco così un po così ecco si fai dell'orecchione rosa grande grande grandi è brava allora facciamo così tipo mi serve un bel pink ecco qua allora mi serve allora mi serve il nasino e mi serve la codina quindi prenderemo questo e questo e la codina la mettiamo di non so così tipo un po storta un po così ecco così tipo è bellissimo mamma mia poi questo è problemi il naso sarà un po storto sarà un po storto ora sto cercando dei mobili però aspetta no tu vai tranquilla non ti preoccupare per me io ce la posso fare è un nasino un po piccolino vabbè ho fatto il nasino un po storto ma insomma chi se ne frega va bene qui stiamo pensando a fare altro allora adesso mi serve perché non c'è il muro in concrete no dai ti prego mi serve panel panel vediamo un po tanto ci deve essere per forza panel mi serve per fare le orecchie il panel e non posso usare un grigio brutto eccolo terracotta panel più o meno ci siamo dai dovrebbe andare benino più o meno ma si chi se ne frega allora mettiamo questo orecchio quest'altro dai ma come faccio facciamo così tipo no è brutto come lo schifo vabbè non fa niente non fa niente allora poi mi serve il bianco per mettere gli occhietti che sono molto graziosi e metteremo white questo qui molto bello il noccio ne metteremo uno qui e uno qui un po strabichino poi metteremo questo io non so neanche cosa sto creando in questo momento quindi io ho veramente tanta tanta fiducia in feri che cosa succede dai ma non devi stare a contatto no feri vabbè sarà un topo cieco pazienza sarà un topo cieco ok poi metteremo ci servono le zampine per fare le zampine ci serve qualcosa di un po' particolare tipo così un bel pantecanone mamma mia che schifo ecco qua così sembra che c'è un po' le ruote ok così che schifo feri una roba che veramente è più scena che altro ma fa niente ecco qua perfetto un'altra zampina qui facciamo un'altra zampotta ok più o meno il topolone preferito di alex ce l'abbiamo intanto allora mi servirà ok ora iniziamo ad arredare in maniera intelligente perché è vero che questo dovrebbe essere una torre tiragraffi quindi dovrebbero esserci cose insomma un po' normali però è sempre casa di alex quindi io direi di mettere al piano superiore una bella amaca così perché insomma c'è alex servono le amache c'è deve prendere il sole perché i gatti lo sappiamo tutti quanti che piace il sole quindi ci vuole una bella amaca che tu stai sul terrazzo e prendi il sole ecco qua molto bello qui abbiamo l'amaca poi mettiamo una bella fontanella quella per gli uccellini che dà molta atmosfera è molto carina e poi direi di mettere anche un bel frigorifero un bel frigo bar ah io l'ho messo pure dentro casa va benissimo tranquilla qui però c'è tipo lui no sotto eccoli la le campionesse siamo femminucce esatto infatti le campionesse delle costruzioni cosa state facendo una bella struttura allora noi stiamo costruendo questa meravigliosa torre tiragraffi in cui vive il nostro alex 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 e stiamo facendo smr anna che adesso come stiamo facendo ma come non è vero vediamo feri che cosa stai facendo tu qua feri addormentata feri sono concentrata aspetta può parlare sottovoce feri cosa stai stai ragionando cosa stai combinando feri ti dà una svegliata in questo istante grazie ma sto cercando dei mobili ma eccola qui è arrivato a feri facciamole un applauso che è tornata buongiorno feri la pentola di fagioli la facciamo fare a giorgio non ce ne servono due quindi feri magari parla come dio comanda grazie ma oggi giorgio non c'è quindi feri ha pensato bene di prenderne il posto ma qui non vedo niente che piace ad alex perché ci sono vedo libri i libri ad alex credo non abbia letto i libri ma dove li vedi libri ce l'hai in mano i libri vedo i libri ma no io veramente volevo fare un'altra cosa che poi avrei spiegato ma sai com'è quindi ti ho interrotto poverina se non dispiacere e questa cosa schiantata che c'è qua sotto che cosa dovrebbe essere scusate un topo grasso no allora senti se tu vuoi la presentazione della casa mi sembra che sei un po' in anticipo perché qui ancora c'è da lavorare non è che io ti posso dire o sai che qui comunque ci sono queste cose ma mamma mia voi non avete detto niente voi voi state lì a dormire non dite niente sulla nostra casa allora siamo venuti noi ma perché ancora non è il momento magari beh ma magari è molto bella quindi dovresti no ti prego vai via per favore perché altrimenti inizio a fare cose che poi tu dici eh no basta sei stata tre ore a dire bla 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 quindi vai via e poi parleremo della tua meravigliosa casa sei diventata alex hai perso l'uso della parola coniugata non ho capito non stai parlando ma sai che lingua è ho capito credo di aver esposto le mie idee troppo in fretta ho detto che è ne vai perché sto adorando la tua casa però siccome tu non vuoi che mi lascio in filippiche dove ti dico le cose chi è questo filippo adesso è un tizio che parla un botto quindi al contrario di alex che invece non parla niente è stupido come feri anche che feri centellina le parole perché creare una poesia per pippo e quindi tutte le parole che aveva consumate lì per la poesia per pippo vabbè ci vediamo tra poco mi raccomando che noi stiamo finendo tre ore l'abbiamo quasi finito anche noi addio ciao ciao andiamo ritiriamo mamma mia allora io non ce l'ha con me sempre con me ma tu non ci pensare ignoralo fregatene però cioè hai visto la loro casa è molto bella è effettivamente degna di molte osservazioni però vuoi mettere guarda qua che lavorone che abbiamo fatto cioè la nostra è veramente qualcosa di straordinario quello che lui ha visto io volevo mettere questo e tu hai detto che c'erano dei cos'è perché i gatti è vero ho già capito non serve che parli con me non serve perché io ho già capito però non me lo fa mettere perché se lo metto qua non me lo fa mettere volevo metterlo allora aspetta vediamo un po' dunque dunque secondo me il tiragraffi aspetta aspetta no sto pensando che magari possiamo togliere qualcosa per aggiungere quello capito vediamo un po' aspetta facciamo così togli la cucina toglila proprio e lo metti lì perché tanto oh c'erano le patatine il pollo allora sai cosa fai gli metti un comodino qui vicino e la roba gliela metti nel comodino perché tipo spieghiamo che lui mentre dorme mangia ok allora bisogno del cibo va bene così va bene intanto io qui sto finendo di sistemare un pochino allora metterò degli animaletti di pezza io adesso non c'ho presente neanche con cos'è che gioca un gatto ce l'ho ci serve dunque ci servirà un posto pieno zeppo di scatole adesso cerco di arrangiarmi io ho lanciato una rana porca miseria non mi fa aggiungere le cose mannaggia quali comodino hai usato no ci serve un altro tipo di comodino ci serve te lo lancio subito tipo allora meglio ancora di un comodino ci metti questo perché è bianco pulito e poi perché così almeno non lo so ok qua ho messo un coniglio una rana poi spiegherò il perché credo credo di essere in grado di spiegare il perché e qua sotto insieme al topolone metteremo tante scatole tutte aperte e cioè vediamo un po se feri riesce a capire perché sto mettendo le scatole beh ma chi lo sanno tutti ai gatti piace nascondersi nelle scatole ecco qua e quindi non ne stiamo mettendo tante per il nostro alex ecco qua poi allora io stavo una cosa importantissima feri allora sul comodino di sopra devi mettere un hamburger un hamburger vado subito cerchi hamburger e ce n'è proprio uno con il piatto tutto bello sistemato carinissimo ok perfetto poi ci serve voglio vedere se abbiamo dei bicchieri delle bottiglie bicchieri qualcosa del genere le bottiglie le avevo trovate io ok mi piace ci servono tipo bicchieri bottiglie qualsiasi cosa che gli assomiglia perché i gatti buttano giù un sacco di quelle robe esatto vediamo un po cali io avevo messo qui ho trovato questa ma in piedi va benissimo ah bravissima questo ci serve questi questo ce ne servono tantissime e vediamo un po se ti ricordi perché cos'è alex ci stavo col vino quindi ci serve un botto di vino 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 allora vedo mi piacciono anche queste mi piacciono mi piacciono direi di buttarci o il sushi il sushi esatto il sushi porca miseria ci serve il sushi ne metteremo tipo una qui ecco qua lo mettiamo qua perché si spalla ah perché me lo rompe la coda del gatto che si muove e vabbè niente allora vediamo un po qua sopra io ho messo anche l'acquario perché tutti i gatti amano tuffare le zampine nell'acquario perfetto allora diciamo che stiamo mettendo un po insieme un gatto normale alex beh è sempre un gatto alex sì sì è abbastanza gatto allora mettiamo qui le porticine le metteremo gialle e le metteremo qui a tendina così perfetto in modo che si apre bello è bellissima ah secondo me ci siamo io non penso che serva qualcos'altro poi non lo so secondo te serve qualcos'altro no secondo me è perfetta ma guarda il topino ma dai è carino il topino guarda è un po disastrato quel topino in realtà secondo me lo è i topini per i gattini sono disastrati non è che siano perfetti hai ragione hai ragione allora io sto sistemando un attimo l'estetica della scala qui guarda un po facciamo così tutto bellino mi piace tantissimo perché così almeno è e intanto direi che ce ne andiamo di sopra per mettere anche un po di fretta ai nostri boys andiamo bene va bene salve buongiorno avete finito buongiorno c'è ferie anche forse non lo sentite arrivare perché sta bombottando come un fagiolo messicano ho detto sono qua ecco è arrivata è arrivata è arrivata ok allora anche noi abbiamo finito comunque e abbiamo finito fuori allora ok allora ma non abbiamo neanche avuto tempo questa volta di di fare il gioco no perché noi di solito quando vi aspettiamo volete fare il gioco dai facciamone un insieme dai facciamone un insieme allora facciamo questo gioco qua bisogna trovare le differenze ok allora uno e due allora ci sono tre differenze tra questi due gnomi a punta e chi il primo che trova ciascuna delle differenze vince un euro ok però un euro bello un bell'euro io sono pronta io lo so una ha chiamato prima Alex prima Alex prego vai una è la punta più lunga controlliamo misuriamo le punte mi sembrano uguali sono uguali è sbagliato dimmi tu Anna adesso dice una stupiraggine totale uno è stato usato da Giorgio va bene era la stessa cosa che avevo in mente io però non volevo dirla sei veramente volgare sei veramente volgare vergognati ma perché scusa ci ho giocato andiamo a vedere prima la è volgare lo stesso non è vero scusa andiamo a vedere prima la vostra vai allora questo qui è la torre tiragraffi di Alex innanzitutto qua fuori abbiamo dell'erba gatta molto di qualità sopraffine qui sotto abbiamo il suo giochino preferito che questo topo catorgio enorme poi si esatto è un sacco ma non ci potrei fare guardi la coda che è un pochetto come dire vabbè comunque a punta esatto e poi qui abbiamo un sacco di scatole perché sappiamo che ai gatti piace scatolarsi però devi sbrigarti perché il tuo tempo a disposizione è terminato questa è la casa vedi apprezzabile di panini bottiglie che i gatti amano buttare giù hai finito il tuo tempo perfetto molto bello comunque molto molto bello ma non ho finito oh senti c'era troppa roba che hai ma non ho finito dai al piano di sopra abbiamo ma ancora non ho finito qui dentro mi sparo io non è possibile no 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 e dai va bene muoviti qui dentro abbiamo lo scaffale con i libri perché ai gatti piace buttare giù tutta la roba ok abbiamo il sushi e il vino che piacciono ad Alex va bene l'acquario con i pesci poi sopra abbiamo il solarium ok e un sacco di barbecue e roba la piscina insomma basta mamma mia ma di le cose importanti tutto importante se no non lo costruivamo che è la casa dei sogni di Alex sono qua sono qua stavo apprezzando no però ero molto tentato qual è il tuo giudizio su questo tiragraffi gigante apprezzo molto questa stanza qua vabbè hai ricominciato a fare l'imbecine è possibile allora vabbè ma io mi sparo veramente è possibile dai ma che roba vabbè vediamo la nostra Anna impara guarda impara allora dall'esterno potete notare che è un muro con un buco il buco è dove si infila il topo è una sezione di muro infatti sopra il muro c'è anche un disegno fatto dal figlio del padrone di casa che ha disegnato un topo vedendo Giorgio e amandolo come animale domestico poi come potete vedere intorno a casa e anche dentro è pieno di gnomi a punta perché Giorgio lì si diverte a saltellare proprio come fosse una acchiappa alla talpa ma con il sedere e qua dentro abbiamo tutta una questione interna di batterie formaggio disegni di gnomi a punta e frutta e verdure da rosicchiare nonché anche libri che non legge ma rosicchia perché qua non li legge nessuno che bello il programma tv dello gnomo si gnomo che vomita perché non gli piace Giorgio a punta perché è stanco dei sopprusi che deve subire da Giorgio no fa vero gnomo eh lo so succedono queste cose potete uscire e venire fuori dalle balle direi che stavolta comunque c'è veramente una battaglia molto grossa molto bravi rispetto anche alle volte scorse siamo stati entrambi molto originalissimi quindi si dov'è Alex? ma si perde di continuo perché stai dietro? ma dovrai stare davanti dovrai stare davanti deficiente totale no non voglio giocare più con Alex basta basta quest'oggi non l'avevo ancora detto ma quest'ultima cosa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché? perché cosa? ti metti dietro? mi son girato ma perché ogni volta che finisce la sfida te devi stare almeno 5 minuti a rompere le scatole guarda io un'ora che guardo di qua e lui non compare eccomi non compare ma cosa c'è il sedere zavorrato che non compare si ho capito ma te c'è tipo paranoia eh porca miseria ma cos'è? un'ora un'ora sei calmo e niente oh che lentezza è così? eh così vi ho fregato ah bravissime vedo le gonne vedo sotto le gonne di Alex no non guardare sotto la mia gonna scostumato per questa volta ci fermiamo mi raccomando ricordatevi di votare se volete votare la casa di Lion e Alex con un panino e invece la casa mia è di Feri con una farfalina esatto per questa volta è tutto da Lion Anna Feri ed Alex out ciao ciao